All'interno appunto di Leffe Estate è stata inaugurata una mostra che sarà poi visibile per tutte le serate durante la manifestazione dedicata a un grande come era Fausto Radici. Come mai avete pensato a questa mostra? Abbiamo organizzato questa mostra nell'ambito di Leffe Estate come Leffe Giovani per raccontare le vicende sportive di Fausto Radici, un dimenticato campione della valanga azzurra e nostro compaesano. Fausto era molto attaccato alle origini di Leffe e ha sempre voluto sottolineare questa importanza che aveva per lui l'attaccamento alla sua origine e di conseguenza abbiamo esteso questo invito alla moglie Elena che l'ha raccolto molto volentieri e abbiamo iniziato la ricerca del materiale. Quest'anno ricorre il quarantesimo anno della vittoria della sua Coppa Europa, era il 73, lui era nato nel 53 per cui quest'anno avrebbe compiuto 60 anni, di conseguenza ci è sembrata una ricorrenza interessante. Da qui anche il nome della mostra, le radici dei numeri primi perché sia il 13, sia il 53 che il 73 sono tutti i numeri primi. La mostra sarà aperta durante Leffe Estate tutte le sere dalle 7 fino alle 11. Ci sarà una prima parte della mostra che racconta la vittoria della Coppa Europa con le foto di tutto il paese in festa, poi seguendo il percorso all'interno della mostra ci saranno le foto delle vittorie di Coppa del Mondo, ci saranno i cimeli, la Coppa Europa che ha vinto nel 73, ci saranno le medaglie, sia dei campionati italiani che delle università e poi tanti altri cimeli e scritti che potranno essere visionati. Non ultima una parte video con le sue imprese sportive, con alcune foto molto belle e ci sarà anche la possibilità di lasciare un pensiero. Questo è qualcosa a cui noi teniamo molto e anche la famiglia, dove chiediamo appunto ai visitatori di mettere nero su bianco un pensiero libero sulla mostra, su Fausto, su quelli che erano degli aneddoti, sui ricordi che sono stati nel passato. È una mostra importante questa non solo per il contenuto ma anche perché avete avuto dei patrocini importanti e quindi è doveroso fare anche dei ringraziamenti. Sì, il patrocinio assoluto è quello della FISI, che è la Federazione Italiana degli Sport Invernali, a livello nazionale appunto. Abbiamo avuto anche il patrocinio del CONI a livello regionale e provinciale, oltre chiaramente il patrocinio del Comune di Leffe che ci ha dato la possibilità di fare questa mostra in un locale così bello come l'Auditorium Pezzoli. Inoltre teniamo a sottolineare e ringraziare, a parte già citata Elena, la moglie di Fausto che ci ha aiutato molto nella realizzazione e nella raccolta soprattutto del materiale inerente a Fausto, anche le aziende che ci hanno permesso di realizzare questa mostra, soprattutto la tessitura gelmi che ha fatto tutta la parte grafica e stampato i teli all'interno della mostra, la Stan Green che ci ha fornito del materiale ed anche chiaramente il lavoro dei ragazzi di Leffe Giovani che si sono prestati per questa manifestazione ed evento.